Questi giorni in Abruzzo per conoscere i paesi amici, per questo gemellaggio con la vostra nazione, ecco che cosa ha visto di bello qui nella nostra regione? Questo rapporto nasce da nostra amicizia con Lorenzo, che mi è venuto qualche anno fa a trovare nell'ambasciata, parlavamo del suo libro, molto interessante, lui come cittadino italiano e abruzzese mi raccontava di questa zona, in fin dei conti siamo arrivati alla creazione di questa associazione italiana e amici della Russia, eccoci qua per continuare. Ma rapporti commerciali è una parte dei rapporti diciamo generali nel suo insieme che noi come ambasciata coordiniamo, vediamo di renderli più opportuni, più facili. In questo contesto abbastanza difficile oggi come oggi, per le cause che non dipendono purtroppo da noi, questi rapporti comunque si vedono e si stanno recuperando. Lavoriamo, lavoriamo anche in questo periodo di grandi discussioni, di grandi frizioni, ecco l'Abruzzo nei tempi di Celestino è sempre una terra di pace, una terra di dialogo e vuole essere l'Abruzzo la porta dell'Oriente. Questa è la nostra pretesa, questa è la nostra voglia, quella di creare collegamenti ed essere la porta per l'Oriente. Gurin ha potuto vedere con i propri occhi le eccellenze di Loreto, dal Museo Acerbo, dal Giudizio Universale, dal Castello Chiola dove si terrà la prima giornata dell'amicizia di Tolurussa in autunno con la presenza di sua eccellenza dall'ambasciatore. Insomma, diciamo che il lavoro che noi da un anno a questa parte stiamo portando avanti sta iniziando ad avere i propri risultati, i propri frutti.